Non c'è bisogno di bussare così tanto, ho capito che volevate entrare, ma tanto siccome voi siete dei senza cervella, io vi ammazzo a distanza, avete capito? Aia, mi ha fatto male. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendale e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video del server Minecraft. Questo server vi piace veramente tantissimo e vi piace anche questa serie perché voi potete creare dei livelli personalizzati per me, ma che lo dico a fare? Ma ormai lo sapete tutti quanti, giusto che lo sapete? E sapete anche che dovete già lasciare un bel mi piace. Adesso, Kendale è la città fantasma. Questo titolo mi ispira veramente tantissimo e vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare. Ciao Kendale, mi saluti in un video, mi chiamo Cosfire PvP. Ciao Cosfire PvP, io sono Kendale, piacere. Ti darei la mano, però non possiamo connetterci in nessun modo. Questa città è infestata da fantasmi, devi ribe... ri... liberarla? Devo liberarla, sicuramente voleva dire. Allora, ci dà ovviamente un equipaggiamento, come al solito. Anche oggi dovremo dimostrare a tutti quanti... Ma sapete cosa? Quasi così non mi vesto neanche. Sì, 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 senza equipaggiamento. Devo dimostrare a tutti quanti che sono il migliore del mondo e a fine di questo video vedrete come diventare un super potente imperatore god di Minecraft. Oh sì, sicuramente se seguite al 100% il tutorial che vi farò adesso in questo video, diventerete anche voi super potentissimi. Ora, per esempio, un vero imperatore god potentissimo di Minecraft non combatterebbe mai questi mostri entrando dalla porta, perché può approfittare del fatto che loro sono parecchio stupidi. Aspetta, no, no, no. Forse lo devo smettere di fare lo sbruffone e mettermi l'equipaggiamento, perché quello... Quello mi ha ucciso con un colpo semplicemente perché ero nudo. Allora, come vi dicevo, un vero imperatore, ovviamente, sfrutterebbe il fatto che loro sono degli stupidi zombie stupidi, e quindi non riescono a passare tutti quanti attraverso la porta. La, 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 siete degli stupidi zombie e posso stare qui ad abbassarvi tutti i giorni. Mori, zombo, mori, mori. Nel frattempo quegli altri sono talmente stupidi che, come vedete, si attaccano tra di loro. Cioè, io non sto facendo nulla. Guardate, adesso ammiriamo la stupidità dei mostri di Minecraft. Ma io non faccio niente. Questi si sparano tra di loro nel frattempo e poi ovviamente vince... Oh, ancora tutti... Si sono presi tutti! Si! Cioè, io non sto facendo nulla, guarda! Adesso è rimasto l'ultimo in vita, che probabilmente avrà anche poca vita, e lo uccidiamo con facilità. Un vero imperatore farebbe così. Colpisci il pulsante e scendi. Ehm, quale pulsante? Quello? Ah, lo devo colpire con l'arco? Ok, adesso scendiamo, l'ho colpito. Cosa sta succedendo? Oh no, ma che sei pazzo? Ma questo è TINETI... Oh, porca miseria. Che cavolo è successo? Ah, mi voleva intrappolare! Voleva intrappolarmi! Ma scusa, io non dovevo combattere contro i fantasmi. Qua sembra quasi che io stia combattendo contro il creatore di questa mappa. Sarà stato lui a fare tutte queste cose. TNTrun. Uh, questo è un po' più complicato perché ha messo i blocchi che ti fermano. Quindi potrei rischiare, ma io ovviamente non rischio. Te gusta il parkour? No. No. E quella... Tu mi hai fatto una domanda e io ti rispondo. No, non mi piace. Però lo faccio volentieri perché comunque sono un imperatore e devo dimostrare a tutti i miei fan che sono... Basta con il parkour, ragazzi. La volete smettere? E poi questo qua, come vedete, è uno scheletro non morto, stupido. Però c'ha una corazza veramente potentissima. Quindi noi lo indeboliamo un pochettino con l'arco a distanza. Poi ci mangiamo una bella mela d'oro. E adesso è arrivato il momento di picchiarlo forte di spada. Vieni, scheletro, io ti voglio solo abbracciare. Sì, 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 un abbraccino proprio. Piccolo, piccolo. Lui sarà tipo il demone degli scheletri giganti, sicuramente. Perché c'è un motivo se è equipaggiato così bene e se è così tosso. Sei piuttosto, eh, scheletro. Sei piuttosto stupido. Se non lo hai ucciso, non passare. Se no, sarai nabbo. Ma stai tranquillo. Ma dubiti per caso della mia potenza? Stai dubitando? Dillo nei commenti. Stai dubitando? Lasciamo un mi piace anche a lui. E adesso andiamo a giocare le altre mappe. Vedo tanto parkour. La cosa non mi piace proprio per niente. Comunque leggiamo. Ciao, Kendall. Mi chiamo Fradax. Mi saluti? Certo, ciao, Fradax. Saluta anche Dax, Tobi, Lollo e basta. Ok, va bene. Ragazzi, io non sono un saluto ambulante. No, sto scherzando. Mi fa piacere salutarvi. Stradina del noob. Ah, ok. Credo sia arrivato il momento di fare i salti. Oddio. Uh, ma questo è un parkour difficile. Questo è un parkour... Aspetta, come faccio ad arrivare là? Forse, forse è fattibile. Vai! Ok, era fattibile. Anche questo dovrebbe essere abbastanza fattibile. Mamma mia, ma questo mi ha fatto un parkour super difficile. Ma non me l'aspettavo proprio. Ok. Così. No, no, no. Non ci posso credere. Non ci posso. Va bene. Allora, abbiamo fatto la prima parte con molta facilità. Ho come l'impressione che questo parkour mi farà sclerare parecchio. Cioè, riesco già a vedere io nel futuro, riesco a vedere Kendall dal futuro che sclera per via di questo parkour. No, 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 no. Ah, eh. Ok, perfetto. Tra l'altro voi, nei commenti tutti quanti mi avete detto che mi fanno straridere i versi che faccio. E il movimento che faccio quando faccio il parkour. No, ma come? Ma come è difficilissimo. Ma, allora, visto che io la prima parte comunque l'ho fatta, potrei utilizzare... No! No. Non mi indurre in tentazione. Non utilizzerò mai. E poi mai la stradina del noob. Hai capito? Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Non inizierò di certo oggi. Continuiamo così. Piano piano. No, no, no. Io, ragazzi, adesso vi giuro, scrivo un'email alla Mojang e gli dico, ditemi il nome e cognome di chi ha inventato il parkour su Minecraft, che vi vado a casa e gli dico, stupido. Ecco cosa gli dico. Poi, no, ok. Uh, ce l'abbiamo fatta per pochissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, ma là ci stanno le scalette. Ho capito, io posso anche scendere così. Forse è un pochettino più facile così. Oh, oh. Ok. Ci siamo. Eh? Piano, piano, piano. Piano, no, no, no. Ma perché mi... Oh. Eh? Cosa è successo? Mi sono bagato. È un checkpoint questo? Qualcosa mi dice che mi sono stra-bagato, ragazzi, che questa cosa non doveva succedere. E infatti, non doveva succedere. Ma che c'ho l'autogjump per caso? Ah, ma io c'ho l'autogjump. Ah, ah, ecco spiegato per quale motivo non riuscivo a fare il parkour. Adesso riuscirò a farlo senza alcun problema. Ok, questa mappa è molto bella. Io sai che cosa? Ti lascio un bel mi piace, ma adesso ne vado a fare un'altra. Kendal, da noob a imperatore. Di 007 Alessandro. Ma cos'è James Bond, forse? Sono curioso di vedere questa mappa. Allora, two downloads. Eh? Non capisco. Comunque, leggiamo. C'abbiamo dei cartelli, c'è dei libri. Kendal, oggi dovrai diventare da noob a imperatore. Regole? Non ci sono regole. Ah, ok. Però poi mi dici, la seconda regola è divertiti. Scusa, hai appena detto che non ci sono, sono confuso. Oddio, mi svolto il cervello. Tre, salutami, mi chiamo Alessandro. Hai un bellissimo nome, ciao Alessandro. Quattro uccidi tutti i mob. Ma allora ci sono le regole. Potresti salutare anche un mio amico, si chiama Andrea. Certo, ciao Andrea e ciao Alessandro. Ok, che cosa dobbiamo fare? Equipaggiamento da nabbo. E allora io non lo indosso, certo. Scusa, devo uccidere uno zombie a pugni? Fatti sotto, stupido zombo. Sì, vieni qua. Facciamo a pugni, facciamo box. Ragazzi, sto scherzando. Non fate mai a pugni nella vita vostra perché non si risolve nulla con la violenza. Allora, equipaggiamento normale. Bene, questa volta se non altro mi ha dato una spada e mi ha dato anche uno scheletro stupido con un arco. Ah no, più di uno scheletro in realtà. Eh, sentite, salve scheletrini. No, io sono un imperatore. Voi non potete di certo uccidere un imperatore con questi trucchetti da strapazzo. Aspetta, questo c'è un arco potente. Ah, eh, eh, no, 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 è un po' troppo forte forse questo, questo scheletro per l'occupaggiamento che c'ho adesso. Ma ora c'è un problema ragazzi. Questi scheletri sono estremamente forti perché gli hai dato un arco troppo potente. E oltre a questo mi riescono a prendere attraverso il muro come avete ben visto. Io non ho della regeneration, quindi non so proprio come batterli. Sono troppo potenti. Mi verrebbe voglia veramente di passare altrove e pre... Eh, vabbè, però scusami allora signor... No, dai, raga. Ma come devo fa... Ma sta lì, lo vedete? Uno. Due. Un vero imperatore sa sempre come ammazzare... No, non mi devi toccare l'armatura. Un vero imperatore, dicevo, sa sempre come ammazzare uno stupido zombo o uno stupido scheletro. Basta semplicemente fare così e poi... E poi... Uno. Cosa fa scappa? Cosa fa scappa? Oh sì, oh sì, sei proprio fregato. Oh sì. Hai capito la potenza dell'imperatore? Adesso qua ci abbiamo invece la stanza pro. Equipaggiamento da pro. Vediamo un pochettino. Ovviamente ci mettiamo tutto quanto. Ci mangiamo una bella mela d'oro. Finalmente possiamo rigenerare. Importante. No, aspetta, scusami un attimo. Fammi ammazzare l'oro e poi leggo. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Fammi rigenerare la vita. Cosa? Da quando in qua possono rompere le porte? Sì, guarda, non c'è bisogno di bussare così tanto. Ho capito che volevate entrare. Ma tanto, siccome voi siete dei senza cervella, io vi ammazzo a distanza. Avete capito? Aia, ma ha fatto male. Mi ha fatto male, forse perché l'ho offeso. Guarda, non volevo offendere tuo fratello. Oddio, ma quanto sono forti questi. Sono veramente fortissimi. Però lui lo riesco a uccidere senza rigenerare la vita. Ve lo dico io, ragazzi. Adesso lo ammazziamo. Oh sì, sei morto. Ottimo. Grande imperatore! A questo punto forse non ci saranno più armature e spade perché la tua forza le ha distrutte. No, ma non ha senso. Ma dammi le armature, per favore. Ok, qua adesso passiamo dall'angolo God. Oh sì, il portale God. Diventeremo dei God. Uh, belle. Mi piacciono queste mele d'oro. Ma aspetta un attimo. Che cosa c'abbiamo? È un castello. Devo superare il castello. Ah, è un castello labirinto pieno d'acqua. Oh no, affogo! Oh mio Dio, non so nuotare, non sono un pesce. Uh, ce l'abbiamo fatta. Qua invece che cosa c'è scritto? Imperatore Kendal. Ecco, soltanto pochi prescelti, solo quelli che fanno parte della Elite possono entrare all'interno del portale Imperatore Kendal. E questo è il mio equipaggiamento. Molto bene. Era anche molto simile all'equipaggiamento God. Per Kendal non ci sono avversità. Grazie per aver giocato la mappa. Ecco il tuo trono. Mi fa ridere perché qua parte tipo come se fosse un trailer super epico. Per Kendal non ci sono avversità. Grazie per aver giocato la mappa. Ok, questo qua è il mio trono fatto di diamanti. Oddio, ma cosa sono diventato? Super ricco. Eh, che fine hanno fatto i due piccoli Steve? No, sono spariti. Ragazzi, mi raccomando lasciate un bel mi piace. Se vi è piaciuto questo video, fatemi tanti altri minigiochi perché potrei giocarli in un video. Dal vostro Imperatore Kendal, ovviamente. È tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!